Loki, la serie evento! Wabalababababab e bentornati su No Mamamazzo! Finalmente cominciamo a parlare di Loki, una delle tre serie Marvel che tanto ci hanno dato hype in questo 2021. Abbiamo iniziato con WandaVision per poi passare a Falcon e the Winter Soldier e ora, con un mese di attesa, di salto dall'ultima serie, e finalmente possiamo parlare di Loki, di cui è uscita appena un'oretta fa su Disney Plus la prima puntata, in chiaro, in chiaro, se avete Disney Plus ovviamente. Prima di cominciare, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno d'ora in poi, condividete il video con tutte le persone che conoscete che sono una variante temporale e commentate qui sotto con quello che ne pensate della prima puntata di questo video ovviamente. Sempre qua sotto in descrizione trovate anche i link a tutti gli altri miei social, tra cui Instagram e il sito Viola Twitch, dove adesso di mercoledì giocherò a Marvel Spider-Man, parlando un po' della Marvel ovviamente, gli orari varieranno, controllate la programmazione. Loki, la serie evento, la serie che tutti attendevamo. Innanzitutto partiamo con la premessa, se proprio non sapete di cosa stiamo parlando, che non è il Loki che abbiamo visto finora, il Loki che abbiamo visto finora è stato brutalmente ucciso da Thanos in Infinity War, sapevatelo. Mentre il Loki che noi stiamo seguendo su questa serie è il Loki del 2012, quindi il Loki che conosce gli eventi della sua vita fino al 2012, quando gli Avengers hanno sventato il suo piano di conquista di Midgar, ovvero la Terra, e lo stavano riportando su Asgard per imprigionarlo, ma a causa del viaggio nel tempo compiuto dagli Avengers per prendere le gemme dell'infinito, Loki è riuscito a prendersi il Tesseract del 2012 e scappare. Questo evento, che non era previsto, ha fatto aizzare le antennine della polizia temporale, la Time Variant Agency, proprio perché Loki si suppone che non dovesse scappare, ma dovesse appunto andare ad Asgard per poi seguire gli eventi della linea temporale che hanno portato alla sua dipartita in Infinity War. E fin qui nulla che non avessimo già visto nel trailer che ci avevano tanto sponsorizzato. Questo Loki, appunto, non è il Loki che si è, tra virgolette, redento nel film Thor Ragnaroth, è ancora un Loki molto cattivo, molto orgoglioso, è bello vedere come tutti lo maltrattano, come è successo nel primo Avengers. Diciamo che il clima di questa serie è abbastanza umoristico, non mancano comunque i momenti emozionanti, i momenti dove il protagonista stesso si emoziona, ma il taglio principale pare essere proprio quello umoristico, proprio perché c'è un controllo totale del tempo di quello che avviene, non c'è nulla di così grave per cui non ci si possa fare una risata sopra. Vedere il principe dell'inganno, il dio dell'inganno, bistrattato, esattamente come fece Hulk nel primo Avengers, è quel tipo di clima che troverete in questa serie. Pare inoltre che tutti i poteri del dio dell'inganno nulla possano contro la positività di Owen Wilson, attore che se non conoscete, o magari non pensate che sia lui, ma è lo stesso attore che ha fatto Ansel in Zoolander, che ha fatto Starsky Hatch insieme a Ben Stiller, ha fatto un sacco di commedie insieme a Ben Stiller. Non vorrei dire, ma mi è anche sembrato di vedere che il giudice del processo a Loki nelle prime scene fosse la stessa attrice che ha interpretato la fidanzata non vedente della cosa nei Fantastici 4 e Fantastici 4 2 2005-2007. Correggetemi se sbaglio, scrivetemelo qua sotto. Non mancano alcune cosette che mi hanno fatto un pochino storcere il naso, ma aspetto di vedere tutte le altre puntate per capire se quello che ho visto è davvero una non curanza oppure una scelta registica precisa. Se non volete che faccio nessun tipo di spoiler, smettete subito di vedere il video adesso, perché dirò due cosette che potrebbero farvi intuire come è impostata la puntata. Quando invece farò lo spoiler vero sarà un pochino più avanti. Il tutto ha un'impronta davvero molto molto terrestre, se non molto molto anglofona. Mi spiego meglio. A un certo punto vediamo, all'inizio, e vediamo Loki che si teletrasporta da un punto all'altro della Terra e quando fa di nuovo la sua annunciazione, la sua gloriosa annunciazione, vediamo che le persone non parlano inglese, non parlano la sua lingua, e Loki non le capisce. E mi fa davvero strano che Loki, il dio dell'inganno, comunque un asgardiano, che da Asgard giunse sulla Terra migliaia di anni fa per i patti che Asgard fece con Midgar, non conosca tutte le lingue della Terra, non ha molto senso, specie se conosce l'inglese, cioè dovrebbe conoscere la lingua antica norrena, se proprio, ma dal momento che conosce l'attuale lingua inglese dovrebbe conoscere tutte le lingue della Terra. Invece no, non parla la lingua asiatica dove si è trasferito, specie alla luce del fatto che nello spazio tutti parlano la stessa lingua, come in Dragon Ball, eppure Loki non riesce a capire da un paese all'altro della Terra. Un po' strano. Altra cosa molto terrestre, non vediamo nessuna razza aliena nella TVA, il che è molto strano dal momento che, da come ne parlano, la linea temporale pare essere una cosa che va oltre la Terra, è una cosa universale, è una cosa multiversale in un certo senso. Nonostante vediamo comunque solo persone apparentemente terrestri, potrebbe essere appunto apparenza, potrebbero essere stati creati così appunto dai guardiani della linea temporale, però perché? Perché non crearli con una razza specifica oppure secondo tutte le varie razze dell'universo? Non ha molto senso, potrebbe essere anche il fatto che chi li vede questi agenti della timeline li percepisca come lui li vuole percepire, malché è ancora strano in ogni caso perché Loki stesso non è un terrestre, è un asgardiano, è pur vero che gli asgardiani hanno lo stesso aspetto dei terrestri, però per quanto ne sappiamo noi potrebbe benissimo, Loki potrebbe benissimo percepire alcuni di essi come dei giganti, dato che lui stesso è figlio di Lofi del regno dei giganti, eppure no, vede solo terrestri, figure che sembrano terrestri, e questo mi ha stranito un pochino. Invece che fortunatamente mi è piaciuta questa cosa, non è esageratamente precisa, ma tutti i Minutemen, tutti quelli della TVA, utilizzano a livello di anni gli anni terrestri per farci capire più o meno dove siamo. Non è proprio corretto per lo stesso motivo che ho appena detto, ma l'ho preferito a livello di facilità di comprensione, piuttosto che si inventassero magari qualche strana cadenza, qualche strano calendario specifico multiversale, che però per noi sarebbe stato difficile da comprendere. Passiamo allo spoiler più totale di questa puntata. Siete pronti? Guardate che vado, vado avanti. Allora, come dicevo, la linea temporale è una cosa universale, è una cosa multiversale. quando spiegano come è nata la TVA, la Time Variant Authority, la pulizia temporale, spiegano che è nata perché una volta c'era il multiverso, ragazzi. Il multiverso è sempre esistito e hanno deciso perché c'era troppo caos, perché ci sono create delle guerre nel multiverso. Non so se stanno parlando della DC Comics o sempre della Marvel. Comunque, siccome c'è stato il multiverso e c'è stato un gran casino col multiverso, a un certo punto degli esseri divini chiamati custodi del tempo hanno deciso di dare un colpo di spugna a ripartire con un'unica linea temporale. Quest'unica linea temporale che noi possiamo interpretare come il Marvel Cinematic Universe, che è tutto coeso, deve rimanere appunto coesa, non deve subire delle varianti. Questo per impedire una nuova guerra galattica, una nuova guerra multiversale e da qui, diciamo, l'importanza di mantenere la linea temporale. Questo potrebbe significare che non grazie a WandaVision, ma grazie a questa serie potremmo davvero vedere come sboccerà il multiverso, il famoso Multiverse of Madness di Doctor Strange. Potremmo vederlo collegato a questa serie e non tanto a WandaVision. Perché si sa, Loki fa casino, Loki potrebbe davvero con questa serie generare di nuovo il multiverso. E perché no, questo multiverso, dato che non ha tempo, quindi potrebbe andare a creare diramazioni in quello che noi consideriamo passato, potrebbe essere inteso come tutte le altre varianti dei film Marvel mai creati prima del Marvel Cinematic Universe, tra cui appunto la trilogia, per esempio, di Sam Raimi di Spider-Man, la duologia di The Amazing Spider-Man, che poi potrebbero confluire in Spider-Man No Way Home, se le voci sul multiverso in No Way Home sono fondate. Insomma, noi saremmo gli osservatori di questo multiverso. Abbiamo visto l'universo di Spider-Man di Raimi, abbiamo visto l'universo dello Spider-Man di Mark Webb, abbiamo visto l'universo del Marvel Cinematic Universe e ora Loki potrebbe scombussolare tutto e rimescolare le carte per mostrarci tutti i nuovi film Marvel su cui abbiamo più hype, quindi Doctor Strange and the Multiverse of Madness e Spider-Man No Way Home, che potrebbero appunto comprendere le nefandezze che farà Loki in questa serie. So che forse le mie aspettative dopo questa prima puntata hanno un attimino pisciato fuori dal vaso però sarebbero delle premesse davvero grandiose per mostrarci quello che sarà la nuova fase del Marvel Cinematic Universe. Non voglio sbilanciarmi più di così perché appunto aspetto di vedere la seconda puntata che uscirà credo settimana prossima. So che molti youtuber che hanno avuto l'onore di vedere in anteprima già le prime due puntate ne hanno già parlato. Ovviamente io non le ho viste in anteprima quindi vi posso parlare solo della puntata che ho visto io quindi magari già nella seconda puntata mi smentirò chi lo sa ci vedremo settimana prossima e cercheremo di capire un attimino dove porterà questa serie. Fatemi sapere voi le vostre più svariate fantasie e teorie su questa serie e su dove potrebbe portare nel Marvel Cinematic Universe o nel Marvel Cinematic Multiverse scrivetemelo qua sotto nei commenti che così nasce un bel dibattito fantasioso speculativo su quello che potrebbe esserci in questa serie io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video o a quello scorso perché il tempo è relativo e vi ringrazio e vi ringrazio per avermi seguito e vi ringrazio per avermi seguito